Tutto pronto in Puglia e Basilicata per la tre giorni del principe Alberto II di Monaco che domani sarà a Terlizzi e Trani, giovedì a Canosa, Poggiorsini e Matera, venerdì ad Alberobello. Alberto di Monaco torna a Terlizzi dopo 25 anni in quello che fu il feudo dei Grimaldi dal 1532 al 1641. All'ingresso della città il principe scoprirà l'insegna stradale Terlizzi-Sito Storico Grimaldi per poi far visita nella Chiesa Santa Maria alla tomba di un suo antenato vissuto nel 1546. A seguire ci sarà il saluto ufficiale da parte del sindaco Nini Gemmato e l'esecuzione dei lini nazionali. In Corso Umberto sarà scoperta un'iscrizione in memoria della Signoria dei Grimaldi di Monaco e poi nella cattedrale incontrerà il vescovo Monsignor Domenico Cornacchia. L'evento esclusivo in programma nella Pinacoteca Michele de Napoli dove sarà esposta alla Croce d'Argento donata al capitolo della collegiata di Terlizzi da parte di Onorato Grimaldi che fu signore feudale e arciprete di Terlizzi. In serata la principe si sposterà a Trani. Il giorno dopo sarà a Canosa dove deporrà una corona di alloro al monumento e caduti nella villa comunale. Poi a Poggiorsini per visitare i ruderi della Rocca del Garagnone e in serata a Matera. Alberto di Monaco concluderà il suo tour ad Alberobello con una visita privata nella cittadina dei Trulli. Grazie.